E poi le chiedo anche riguardo al prossimo settenato, al prossimo Presidente della Repubblica, se c'è la possibilità di un'intesa con gli altri partiti. Io mi auguro che se verrà a noi la maggioranza capace di eleggere il Presidente della Repubblica, si possa trovare un accordo su una persona che anche in partenza possa essere sentita come il Presidente della Repubblica di tutti gli italiani con la sinistra. Ho in mente un nome che so certamente molto stimato dalla sinistra. Non ce lo può anticipare? No.